Si è conclusa sabato scorso nella Pinacoteca Comunale la tre giorni di seminari promossi sull'unicità del Golfo di Gela dopo le tappe di Lampedusa e Licata. Sono stati illustrati gli obiettivi, le azioni e i risultati sulle nuove opportunità di sviluppo che i gruppi di azione costiera hanno messo in campo al fine di promuovere l'accrescimento locale e sostenibile per dare impulso alle economie costiere e alle zone di pesca fondato sul coinvolgimento di attori pubblici e privati intestatari di interessi comuni che operano nel contesto territoriale dei comuni di Gela, Licata, Butera e Lampedusa Linosa. I cinque centri, lo ricordiamo, hanno dato forma ad una società consortire, si chiama GAC Unicità del Golfo di Gela, che ha come obiettivo quello di attuare il piano di sviluppo locale. Il GAC è caratterizzato dalla presenza di connotati unici di natura e bellezza architettonica, storica e culturale, al cui interno le tradizioni marinare sono radicate. Il GAC è uno strumento molto utile per recuperare finanziamenti utili allo sviluppo locale, in particolare della pesca. D'altra parte le componenti che mette al centro della sottenzione, cioè pesca, ambiente e turismo, rappresentano un elemento fondante di questa attività. E sicuramente darà luogo a dei risultati interessanti nei prossimi periodi. Finora sono state fatte alcune attività, forse non c'è stato il tempo di poterne massimizzare i risultati, ma probabilmente nel prossimo periodo, nei prossimi anni, sarà invece possibile fare tesoro delle difficoltà iniziali e quindi dar luogo seriamente ad un miglioramento delle condizioni economiche e sociali della categoria. Un settore importantissimo, la pesca, della nostra tradizione, della nostra storia, un po' abbandonata nell'ultimo cinquantennio, diciamo, ma che oggi potrebbe essere un nuovo inizio, una nuova rinascita del territorio, partendo proprio dalla bellezza del nostro golfo. E' proprio il GAC, si chiama Unicità del Golfo, proprio perché rappresenta l'unicità e la bellezza di questo territorio. Il gruppo di azione costiera Unicità del Golfo di Gela opera nell'ambito FEP ed attua progetti di sviluppo e gestione di finanziamenti rivolti agli operatori della pesca. L'obiettivo principale del GAC è di attuare il piano di sviluppo locale, la cui finalità è di integrare il flusso turistico con le attività connesse alla pesca attraverso interventi finalizzati a moltiplicare le opportunità di integrazione e diversificazione per le aziende del settore. Un ciclo di seminari per raccontare un anno di attività intense, di prospettive future che riguardano il combattimento della pesca, di nuovi investimenti, di realizzazioni che stiamo portando a compimento, pensando ad uno strumento come il GAC legato allo sviluppo locale capace di rilanciare l'economia dei territori di Gela, di Butera, di Licata e di Lampedusa.